come rifa rifa non ho capito no rifa dai 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 che va il filmato finisco la pellicola ecco parti da lì ah no la rifai da lì indietro vai indietro ancora un pezzettino è il camminatore c'è il camminatore di guerre stellari che trum 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 uguale cammina dappertutto e tante volte il problema che li fa cazzo li fa lo stesso non capi ma li fa figaro se sei in gara lui prende tre e te prendi cinque vai giù e sali di colpo gira 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 no di lì cazzo che se mi cade giù di lì si ammazza ho detto di girare qua no alla benne lì c'è un telefono adesso lo prendiamo sta di fatto che qua se vieni giù più veloce passi fuori dentro nel fiume è pirlone cazzo mi fa spaventare tutte le volte si ho capito fermati cazzo non lasciare correre non lo so da come no è solo bagnato adesso troviamo no non riesco io non riesco con quella moto lì via 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 bravo o così anche qua non ti fermare troppo è via no giù bravo va bene bravo Lele vedi che non fermarti fa meglio è solo il sasso che lo devi prendere più a metà non in di là perché sennò ti porta su guardalo guardalo guardalo